La depressione? Un'ossessione senza fine che non dà tregua e non si placa mai. A pensarla così e a scriverlo nero su bianco nel suo ultimo libro, Ucciso il cane nero, edito da Mondadori, è Roberto Gervaso, giornalista e scrittore intervistato dalla DN Kronos. Gervaso, cheppure ha avuto una vita ricca di avventure e soddisfazioni professionali, umane e sentimentali, più di una volta è infatti caduto nel gorgo della depressione, ma ne è uscito e nel libro racconta come. Io dato che ho avuto tre grandi depressioni e l'ultima straordinaria, eccezionale, terribile, la depressione si guarisce sempre, bisogna avere pazienza e bisogna affidarsi non a uno psicologo, ma a uno psichiatra, e prendere i farmaci, che hanno degli effetti secondari, ma sono la sola risorsa farmacologica contro la depressione. Quindi io raccontando la mia depressione, e poi ci sono anche dei capitoli in cui racconto le cause della depressione che sono anche molto, credo, molto divertenti. E poi, quindi, la parte sulla depressione non può che essere utile ai depressi. Nel libro l'autore affronta anche i momenti difficili che vive il paese. L'Italia è spacciata, l'Italia non è depressa, l'Italia è spacciata perché l'Italia è vissuta al di sopra dei suoi mezzi, l'Italia è uscita da una stagione di grande benessere e poi è piombata in questa crisi economica, finanziaria, monetaria, planetaria, non solo italiana, planetaria. L'Italia è questa perché questi sono gli italiani. Non c'è il senso civico, non c'è il senso dello Stato, non c'è uno Stato, i partiti sono delle bande incapaci e ladrone, incapaci di governare e di mano molto lesta. Il paese sta in piedi perché non sa da che parte cadere. La soluzione sarà la colonizzazione. Il libro è anche una carrellata di incontri con personaggi memorabili, alcuni di loro grandi depressi, Orgy Luis Borges, George Simenon, Indro Montanelli, che lo introdusse al giornalismo e alla fama. Insieme a loro scorre più di mezzo secolo di storia, dal boom economico alle torri gemelle, passando per il 68 e Tangentopoli. In una parte di questo libro racconto la mia depressione e quindi faccio pensare il lettore, lo aiuto. Due terzi del libro però sono dedicati ai miei amori, ai miei amorazzi, ai miei incontri, le mie avventure, le mie disavventure perché io ho visto di tutto ma anche fatto di tutto.